La terza voce era la più bella. La prima, Ameri, era a sostegno di un ritmo impareggiabile ma con aspri finali di frase, la seconda, Ciotti, era quella ideale al servizio del funambolo che era. La terza era quella di Claudio Ferretti, terzo campo in ordine di importanza, ed era perfetta, sembrava il podcast di un grande attore che ti raccontava live la partita. Per qualche motivo il terzo campo era molto spesso l'Olimpico di Roma e quando entrava il gol della squadra di casa si ricordano i toni apici e un boato diverso, nitido, con voce appunto perfetta a sostegno. Claudio Ferretti se n'è andato da Roma e dal mondo ieri, ha 77 anni. Nato col marchio del figlio d'arte, non era una paternità qualsiasi, il padre Mario era passato dalle strade della Cuneo Pinerolo, anno 1949, direttamente alla leggenda di sempre dello sport con quella frase dell'uomo solo al comando della corsa, poi il colore della maglia e poi il nome. Claudio il figlio si ritrovò a navigare alla grande dentro quella leggenda settimanale che era tutto il calcio minuto per minuto. Ma la leggenda la ebbe a praticare anche lui, maggio 1975, la sfida decisiva verso lo Stelvio, al giro, e in un giorno in cui per uno sciopero salta la diretta televisiva. Ma Ferretti era al suo posto, ovvero sulla moto che seguiva Fausto Bertoglio e Francisco Galdos, in un giro facidiato dalle assenze, diventano protagonisti del sogno e lui, Ferretti, a scandire i tornanti per milioni di radioline ne mancano 27 al traguardo. Fece anche la radiocronaca del primo Benvenuti Monzon, Ferretti era multiuso e aveva un orizzonte ampio in testa, negli anni 80 e deon folle, per allora, girò al computer trasmesso alla radio, con i corridori virtuali ed ebbe grande successo. Quell'orizzonte che lo condusse a fine anni 80 a traslocare in tv e vivere da protagonista agli anni d'oro del servizio pubblico rinnovato e con una rete, la 3, gioiellino da alimentare. Conduttore di tv, capo dello sport, autore e protagonista di programmi, telesogni e molti altri, aveva anche ereditato il processo alla tappa.